Come ogni anno siamo qui all'Ise e quest'anno è particolarmente positivo per noi come Lightwear a livello mondiale, abbiamo avuto un'affluenza molto importante, la prima volta che superiamo quota 800, per l'Italia anche abbiamo avuto un gran bel successo con molti clienti venuti a vedere le nostre novità. Senza che parliamo di tutta la nostra gamma prodotti vorrei focalizzare l'attenzione sui prodotti più importanti della fiera, di tutti i prodotti della gamma TPS ovvero il nostro nome per chiamare i prodotti HDBaseT. Abbiamo tutta una serie di prodotti dedicati all'installazione tra cui vorrei porre l'attenzione su questo prodotto in particolare con uno switch che va da 4 ingressi automaticamente vengono trasportati in HDBaseT trasportando logicamente RS2, controllo, audio e quant'altro. Hanno delle funzionalità che poi andremo ad analizzare nel corso del tempo e sperando di incontrarvi e incontrarci in giro per l'Italia, in giro per le fiere, così per scoprire la nostra gamma di prodotti in modo migliore.